Di Parma era stato nel 2007, due. No, io facciamo un video. Io amo, io amo mi viene un'idea. No, io amo! Io amo tu esagerato. No, abbiamo inondato il resto. Allora, quindi... Beh, io l'avevo tolì. È stato normale, sennò sempre uno si mette in posa. Poi dopo ha visto. Sì, è piacere. Sennò... Hai creato Lucia? Sì, sì. Eh no! E non troppo si rifisci tutto. Se mi metti... No, però là... Sì, però semmo una volta trovai... Io. Cici. Ci siamo fuori. Ci siamo fuori. Ci siamo fuori. Sì, esatto. Ma pure le merendine, come i biscotti, le periocine... Mi sono fuori. Ma è mai bello ciò che si mette in mano. Ah! È così, mi sembra... Salvi con me e cominci a cantare, si mi nota che l'aria dà. Senza guardar tu continuo a volar, mentre un vento ci porta allà. A tu ci stanno le parole più belle, e te piglio per te imparar. A tu ci stanno le parole più belle, e te piglio per te imparare. A tu ci stanno le parole più belle, e te piglio per te imparare. A tu ci stanno le parole più belle, e te piglio per te imparare. A tu ci stanno le parole più belle, e te piglio per te imparare. A tu ci stanno le parole più belle, e te piglio per te imparare, e te piglio per te imparare. E te piglio per te imparare, e te piglio per te imparare, e te piglio per te imparare. A tu ci stanno le parole più belle, e te piglio per te imparare, e te piglio per te imparare. E te piglio per te imparare, e te piglio per te imparare. E te piglio per te imparare, e te piglio per te imparare.